Musica Intanto mettete il grembione e lavatevi le mani Non siamo morti ancora Quello che ci possiamo andare a prendere è il mezzo duorlo che ci serve Un minuto di tempo forza Pestiamo gli stoccioli 3, 2, 1 Su le mani tutti quanti e fanno un applauso Questo progetto si inserisce in una serie di iniziative che noi stiamo prendendo Per cercare di normalizzare il più possibile la vita quotidiana di questi ragazzi che hanno il diabete tipo 1 Soprattutto per confutare dei falsi miti legati a una dieta particolare, all'uso o al non uso di alimenti specifici Ma in realtà la dieta che loro devono seguire e di cui devono essere sempre più convinti loro e le loro famiglie È una dieta salubre per tutti, per ciascuno di noi Sono semplicemente i principi di una dieta equilibrata, una dieta sana per tutti E che loro devono, come ciascuno di noi, sforzarsi di seguire il più possibile Non è tanto, non mi isso Musica Grazie a tutti